Ciao appassionato motociclista, io sono Andrea e se sei alla ricerca della tua prossima rossa di Borgo Panigale, beh, sei nel posto giusto. Moto Argento è il concessionario specializzato in super sportive e hyper naked di alto livello, con oltre 2000 metri quadri di showroom e più di 300 moto in esposizione. Le prepariamo tutte per esaltarne prestazioni e stile. Prima di continuare, iscriviti al canale, attiva la campanellina e non dimenticarti di seguirci su tutti i social, per rimanere sempre aggiornati sulle nostre moto disponibili, tipo loro. Street Fighter V2 e Street Fighter V4S. Lasciati affascinare dal design e dalle prestazioni di queste due moto. In primis, la Street Fighter V2 è molto semplice, intuitiva, facile, mentre se si vuole la potenza esagerata, anche troppa a mio avviso, c'è la sorellona maggiore, la V4S. Sia che tu cerchi adrenalina, emozione o semplicemente la voglia di sfrecciare, queste due moto fanno a caso tuo. Questa stupenda edizione Lamborghini è frutto della nostra personalizzazione a 360 gradi. Che si tratti di livrea o accessoristica, l'unico limite è la tua immaginazione. Se desideri acquistare una moto qui da noi, ricordati che hai la promozione valida solo fino all'8 di agosto, sta per scadere, quindi fai in fretta, passa in concessionaria. E riceverai in omaggio gomme d'allop, pastiglie e brembo, doppio tagliando e una checklist di 52 controlli certificati nei nostri tecnici specializzati. Moto Argento, amore, passione ed edizione. Io sono Andrea e vi aspetto in concessionaria. Ciao ciao! Ciao!